Buongiorno, buon martedì 25 di aprile. Ben trovati a mattino 6, la nostra quotidiana rassegna stampa. Oggi è un giorno di festa dedicato alla liberazione dal nazifascismo. Allora iniziamo subito con la nostra rassegna dai quotidiani regionali e dalle prime pagine. Partiamo dal centro, firme contro i vandali in centro. Questa è la prima dell'edizione di Pescara, petizione dei residenti e dei commercianti per fermare le risse e le aggressioni. E a centro pagina, come vi ho anticipato, 25 aprile festa della liberazione. Così l'Abruzzo lottò per la libertà, come ricorda il quotidiano Il Centro. L'inchiesta, poi l'intervista a Ruffini, Milia mi diede quella lettera per quanto riguarda le indagini sulla vicenda Pescara-Porto che coinvolgono anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso. E poi replica al centro, le istituzioni non sono in discussione. La lettera di Luciano D'Alfonso che viene pubblicata dal quotidiano che replica ad un intervento del direttore primo di Nicola che trovate nella edizione di ieri invece. E poi nelle cronache Pescara, il Ponte Nuovo sarà intitolato ad Ennio Flaiane. Ancora l'omicida e ora Parolisi studia legge in carcere. Nel taglio alto, un richiamo dalle cronache nazionali. Viaggio nel fine settimana, il Papa sfida il terrorismo in Egitto senza auto blindata. E poi nel taglio basso invece lo sport e il calcio di Serie A con il posticipo. Dieri sera fra Roma e Pescara, la Roma passeggia Pescara l'ultimo tonfo, vale la B. I biancazzurri retrocedono con cinque turni d'anticipo per effetto della sconfitta per 4-1 di ieri e per la vittoria dell'Empoli a San Siro contro il Milan per 2-1. Andiamo avanti con la lettura del centro, passiamo alla edizione di Chieti Lanciano Vasto. Titolo di apertura, Cantone blocca il nuovo ospedale. Chieti, l'anticorruzione apre un'inchiesta, D'Alfonso dice l'anacchestata raggirata. Diciamo che questa è la notizia principale della giornata di ieri per quanto riguarda la politica regionale perché da settimana ormai è alto lo scontro sul nuovo ospedale, sul project financing presentato dalla ditta Maltauro. Forza Italia prima, il Movimento 5 Stelle poi hanno più volte criticato il project financing e è arrivato anche lo stop da parte dell'anac su esposto del Movimento 5 Stelle, una sospensiva per fare chiarezza da parte dell'autorità nazionale anticorruzione. Ieri poi c'è stata una conferenza stampa di risposta da parte del Presidente della Regione che vedremo più avanti nella seconda parte di mattino 6. Andiamo nelle cronache. Roberti, Vastese a rischio per la sicurezza, così il procuratore antimafia. E poi ancora nel taglio basso, ad Atessa, Honda al milionesimo scooter, traguardo storico per il colosso abruzzese delle moto, lo stabilimento della Honda in Val di Sangro è una realtà importante per la nostra Regione. Ancora Vasto, Piano Spiaggia, Renato, concessioni bloccate. Andiamo sul centro edizione di Teramo. Case nuove per i terremotati, le comprerà la Regione con 50 milioni di euro, poi andranno ad Ater e Comuni. Ieri è stato presentato appunto il bando che consente l'acquisto di case mai abitate tra i 40 e i 95 metri quadrati. Andiamo ancora avanti. Nelle cronache, torniamo sul giornale, Botte al padre arrestato un 25enne. Vedete il richiamo alle pagine interne di spalla. Nel taglio basso Giulia Nova emigra la notte anni 50. Gli organizzatori la vogliono spostare a Pescara. Ancora la crisi, gli ex alleati non vanno in soccorso del sindaco Brucchi, che vi ricordo si è dimesso dopo aver preso atto di non avere più la maggioranza. Andiamo ancora avanti. L'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, quella di L'Aquila, Vezzano, Sulmona. Negozi in centro, ecco 20 milioni. L'Aquila si punta sul rientro delle attività e sul ribasso degli affitti. Nelle cronache di spalla, Amarelli, l'adesione allo sciopero sfiora il 70%. E poi nel taglio basso, blitz dei volontari, pesca di frodo, 10 le denunce, sequestrati, 1000 metri di reti nei canali del Fucino. Altra notizia invece da Celano, colture della Piana devastate dalle gelate. Andiamo avanti adesso sul messaggero, restando alle prime pagine dei quotidiani regionali. Andiamo a vedere quella dell'inserto Abruzzo per l'appunto. Titolo di apertura, chiedi stop al nuovo ospedale. L'ANAC sospende il project financing. Convocati Flacco, che è il manager della ASL, è il presidente della regione Abruzzo. Controlli sulla regolarità della procedura. L'assessore alla sanità Polucci dice, rischio sismico, l'opera è necessaria. E poi ancora, sempre a centropagina, ma questa volta nella fotonotizia, l'inchiesta Pescara Porto, l'interrogatorio dell'ex braccio destro di D'Alfonso Ruffini, istruzioni dall'avvocato Milia. Su Pescara Porto, spunto, la presunta lettera di istruzioni dell'avvocato Milia, ha consegnata a Ruffini, allora segretario particolare del presidente della regione. Poi il terremoto, niente casette, abitazioni vere agli sfollati, il bando della regione per l'acquisto degli immobili. Torniamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo. Andiamo a vedere invece nel taglio alto lo sport. Pescara, umiliato dalla Roma, saluta la Serie A. Finisce 1-4 all'Adriatico, a cinque giornate dalla fine, è arrivata la retrocessione. Poi la Lega Pro, Teramo rientra il caso Fratangelo, e la Serie D coletta torna alla carica per l'Aquila. Nell'articolo di spalla troviamo il 25 aprile, i vincitori con il senso dell'Europa, e l'articolo di Nicola Mattoscio, che è presidente dell'Associazione Brigata Maiella, la liberazione venne vissuta come aspirazione alla pace e all'unità del continente. Questo in sintesi è quello che dice Mattoscio nel suo articolo. Nel taglio basso, invece, la cronaca a Casalbordino, i banditi assaltano un'area di servizio. Ieri sera all'area di servizio Portobello, lungo la statale 16 a Casalbordino Lido, c'è stata una rapina attorno alle 22. Andiamo, invece, adesso nel taglio alto per vedere gli altri richiami dalle pagine interne. Teramo, l'addio di Brucchi, fa annullare manifestazioni a Notte Bianca, e poi Strade Trappola, Giulianova, le buche costano al comune 50 mila euro e sempre per questo approfondimento del messaggero cade per colpa del tombino condannato Palazzo d'Achille. Doveva stare più attenta, bocciata la difesa dell'amministrazione, il municipio risarcirà la donna, che si era procurata fratture al volto. Notizia che arriva da Chieti. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre con la crisi di maggioranza al comune. Non ci sarà mai un'aggiunta tecnica a Teramo. La soluzione alla crisi passa dal recupero degli ex di maggioranza. Grandi manovre in corso. Vi ricordo che ci sono 20 giorni di tempo dal momento in cui sono presentate le dimissioni da parte del primo cittadino per poterle ritirare. E poi, a centropagina, Bye Bye Mastro Mauro sulla fotonotizia. Roseto è per l'ospedale unico e tratta sul maxipolo sanitario. Andiamo di spalla. Adesso Tortoreto al voto. Centrodestra spaccato. Piccioni ritira la candidatura. E poi Silvi senza sindaco. Comignani senza paura sono pronto a vincere ancora. Nel taglio alto, Chieti e D'Alfonso raggirati gli indotti in errore il project dell'ospedale sotto la lente dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Poi a Teramo Picchi e il padre lo manda in ospedale e ancora dal capoluogo Caso Scuola Bus Incontro tra Comune e CGL. Invece nel taglio basso La politica Castellalto Isola Felice per PD e Articolo 1 e poi il calcio di Lega Pro. Campitelli striglia Mister Ugolotti e si dice pronto a vendere il Teramo. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso, come di consueto, apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali e allora andiamo a vedere insieme la prima pagina del Corriere della Sera. Piano bocciato, caossa l'Italia e il titolo di apertura verso il commissariamento dopo il referendum. Il governo dice siamo sconcertati. Respinto l'accordo da parte dei lavoratori, decisivi voti di piloti e hostessi. Il no arriva al 67,5%. Il preaccordo fatto da azienda e sindacati appunto doveva passare al vaglio dei lavoratori. Il piano che prevedeva quasi mille esuberi e tagli consistenti agli stipendi però non è passato. Nel taglio alto il voto in Francia. I mercati già festeggiano Macron. Le Pen lascia la guida del fronte nazionale. Votatemi tutti, dice in questa sfida al ballottaggio tra la leader del fronte nazionale Marine Le Pen e il nuovo che avanza, l'indipendente Macron. Andiamo sulla Repubblica adesso. All'Italia il voto atterra la compagnia. Il titolo di apertura ancora una volta sul voto in All'Italia. I lavoratori bocciano l'accordo tra governo e sindacati. Ora il commissario e la liquidazione sono più vicini. Vertice di emergenza a Palazzo Chigi. Il ministro delle finanze Padoan dice il fatto il possibile ma niente nazionalizzazione. E poi a centropagina siamo sicuri che Macron abbia già vinto la corsa all'Eliseo non è ancora definitivamente chiusa anche se i sondaggi danno come ampiamente favorito proprio Macron. Andiamo sulla stampa. All'Italia shock, no al salvataggio. I dipendenti bocciano il piano. Oggi la richiesta di amministrazione straordinaria. Il fronte della protesta al 67%. I contrari guidato da piloti e host. Setiad vuole vendere a Lufthansa. Di spalla la vittoria di Macron spinge le borse. Emanuele Brigitte il patto di ferro per conquistare l'Eliseo. E poi la liberazione di Del Grande. Ogni giorno dicevano ti liberiamo. Del Grande in Italia dopo due settimane in Celle in Turchia. Così è andata la trattativa. Il sole 24 ore. Il principale quotidiano economico italiano. Apre con i mercati che puntano su Macron. E dunque mercati che reagiscono alle elezioni. Al primo turno per l'Eliseo in Francia. La vittoria dell'ex ministro. E il margine di vantaggio su Marine Le Pen. Fanno volare le borse. Milano più 4,77%. Ai massimi da 16 mesi. In caduta gli spread dei paesi periferici. Vendite sui beni rifugio, oro, yen e bund in calo. L'euro risale a 1,086 sul dollaro. E poi il referendum con i no al 67%. I dipendenti bocciano il piano d'Italia. Vicino il commissariamento oggi ci sarà il CDA dell'azienda. Per quanto riguarda il fisco. Manovrina, ok del Colle. Salta la cancellazione del Limo per le trivelle. Decreto legge ieri in Gazzetta. Già in vigore. Andiamo adesso sul messaggero. Vince il no all'Italia in vendita. Anche qui titolo di apertura sul voto. Nella ex compagnia di bagniera. I dipendenti bocciano l'accordo siglato dai sindacati. Il governo prepara il commissariamento. L'ipotesi è di liquidare la compagnia in sei mesi. Posti di lavoro in bilico, rotte e aerei da cedere. E poi vediamo l'effetto Macron. Spinge le borse. Prodi, l'ex premier italiano, per vincere resti coerente. Ballottaggio e favorito nei sondaggi. L'intervista all'ex presidente del Consiglio. Nonché ex presidente della Commissione europea. Romano Prodi. Per quanto riguarda invece sempre il no all'Italia. C'è l'intervento di Oscar Giannino sul referendum. Una caporetto sindacale senza appello. Questa è la posizione di Giannino. Che peraltro fa eco a una buona parte dell'opinione pubblica italiana. Insomma, questa era una prova importante per i sindacati. I lavoratori hanno bocciato il lavoro fatto in queste settimane. A centropagina troviamo anche la partita di ieri sera fra Pescara e Roma. L'Ite Spallezzi in seco. Abruzzesi retrocessi. Roma valanga sulle Pescara. Il 4-1 blinda la Champions. C'è anche questo piccolo giallo della lite fra il tecnico della Roma e l'attaccante Edin Dzeko. Andiamo sul Fatto Quotidiano. All'Italia non vola più. Il governo scarica le sue colpe su chi lavora. Referendum pioggia di no bocciati tagli. Palazzo Chigi esclude interventi. Questa è la posizione del Fatto Quotidiano. che poi pone in primo piano un'altra notizia. Armi Italia Record. Trump ordina più soldi alla Nato. Siamo i primi più 10% nell'acquisto di armamenti. Tra l'altro, appunto, il Presidente Trump, nell'incontro avuto con il Premier Gentiloni, avrebbe così fatto capire all'Italia di dover versare più soldi alla Nato. e poi come stanno le cose nel Mediterraneo, i migranti, le ONG, i taxi e il tradimento dei paesi che stanno lì a guardare. Andiamo sul tempo. Il Quotidiano Romano. I conti senza l'hostes, questo bel gioco di parole. Fall'Italia. La dirigenza puntava sull'ennesimo accordo ricatto, ma i dipendenti a sorpresa dicono no. Ora c'è lo spettro del fallimento per Alitalia. E poi a centropagina. Mia figlia vincerà grazie ai compagni. Intervista esclusiva al fondatore del Front Nazionale, Jean-Marie Le Pen. Piuttosto che Macron, la sinistra, vota lei. Questa è la convinzione di Le Pen. Poi il 25 aprile. Allarmi sono sfascisti e tocca resistere a loro. Basta esorcizzare paure di 70 anni fa. L'invasore da cacciare oggi è un altro. E l'intervento di Marcello Veneziani per quanto riguarda il 25 aprile. L'unità, il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico, pone in primo piano la vicenda dell'Italia. L'Italia commissariata. I lavoratori bocciano l'accordo voluto da aziende e sindacati. Il governo interviene. Cresce l'ipotesi della liquidazione. E poi i Vescovi a Di Maio, vergognoso. La CEI sulle accuse del grillino a Leone NG che salvano i migranti. È un tema serio. Superficialità allucinante. Andiamo sul manifesto. Restando nel campo del centro-sinistra, né in terra né in cielo. Il titolo di apertura del giornale. Valanga di no all'accordo sui tagli. Votando in massa al 90% al referendum. I lavoratori all'Italia hanno chiesto un diverso piano di rilancio. Vertice d'urgenza del governo. Sindacati di base e sinistra. Lo Stato entri nel capitale della compagnia con una nazionalizzazione che però abbiamo sentito dalle parole di Padoan. Al momento sembra esclusa. E poi il ballottaggio in Francia. L'Europa con Macron. Le penne punta sul paese profondo. Puzzle Francia per questo secondo turno delle presidenziali. Adesso cambiamo schieramento politico. Passiamo al campo del centro-destra con il giornale. No al referendum. I piloti kamikaze fanno saltare all'Italia. Il personale di volo boccia il piano di ristrutturazione. Il crack è vicino. E poi Trump ha gentiloni. Più soldi alla Nato. Queste le parole del presidente americano all'Italia. Andiamo sul Libero. Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Apre con la dittatura Europa. L'Italia prostrata. Malgrado le tante promesse. Il governo nella manovra mette nero su bianco. L'aumento dell'IVA che l'Unione Europea pretende da noi. Per paura di finire come Berlusconi. I nostri politici si sono ormai sottomessi alla Merkel. Questa è la posizione di Libero. E poi Barzelletta. Un'uscerta alla rabbia per tutelare i diritti delle donne. Il voto in Francia. Macron in testa alle elezioni. Il presidente dei ricchi. Il mondo della finanza in festa. Perché il pupillo degli euro-burocrati. Banchieri e potenti. E' favorito al ballottaggio. I politici italiani si coprono di ridicolo. Facendo a gara nel sostenere di essere le copie nostranel del leader di Ammarche. Questo quanto sostiene Libero. Facendo così da sponda invece alla candidatura di Le Pen. E poi il referendum di Alitalia. Alitalia. Meglio fallire che lavorare dopo il voto dei dipendenti. Andiamo sulla verità. Il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Sott'accusa i controlli in mare. Lo scandalo della guardia costiera che non fa la guardia ai clandestini. Le ONG accusate di favorire gli scafisti operano d'intesa con le nostre vedette. La commissione del Senato vuole vederci chiaro. Convocato l'ammiraglio. Intanto Fabio Fazio ospita in tv il cantante che insulta gli italiani. E poi i ritratti di Perna. Donciotti da Manforte e gli immigrati sul manifesto. Il 30 a 20 miglia. Andiamo sul mattino di Napoli. L'Alitalia sull'orlo del crack. Dunque in apertura si torna a parlare del referendum. Alitalia vince il no agli esuberi e stipendi tagliati. Il governo sconcerto. Ora ridurre al minimo i costi. I lavoratori bocciano l'accordo. Oggi il consiglio di amministrazione per varare l'amministrazione straordinaria. E poi l'inchiesta del mattino. Dopo le presidenziali francesi, le ricadute sulla politica e sugli schieramenti. Da Renzi a Calenda e Parisi caccia al Macron italiano. Andiamo sul secolo XIX. Il quotidiano genovese bocciato l'accordo per salvare l'Italia e il no dei dipendenti. Può costare un miliardo al paese. Verso l'amministrazione straordinaria Etihad vuole cedere a Lufthansa. Andiamo ancora avanti. La gazzetta del mezzogiorno. Il quotidiano pugliese apre con le presidenziali francesi. Francia le borse in festa. Gli sconfitti quasi tutti per Macron. Ma Le Pen dice che sono i poteri marci. La soddisfazione di Renzi. Grillini. Noi siamo diversi dai francesi. Poi una notizia importante. Si torna a parlare dello scontro dell'incidente ferroviario che avvenne sulla Corato Andria. scontro fra treni. C'è il sì a 10 milioni di indennizzo. Firmati i decreti. I soldi sono destinati ai feriti e ai parenti delle vittime. Oggi test con il GPS. La procura cerca prove per quanto riguarda l'inchiesta. E poi il voto su Alitalia. Vertice di ministri da Gentiloni. Una raffica di no al referendum. Resta a terra l'accordo per l'Alitalia. Andiamo su avvenire adesso. Parigi sfida sull'Unione Europea. Così il quotidiano che fa riferimento all'area cattolica e alla conferenza episcopale. E' scattato il lungo ballottaggio Macron-Le Penne. In gioco gli assetti europei. Tutti contro il Front National. Ultimo quotidiano. Ultima prima pagina. L'Italia fa rotta verso la liquidazione. E' il titolo di apertura delle gazzettine. Il quotidiano del Nord-Est. Economia. Il referendum tra i lavoratori vince il no. Vertice a Palazzo Chigi. Non ci sarà la nazionalizzazione. Bocciato l'accordo firmato con i sindacati sul piano di salvataggio. In arrivo commissario e vendita a pezzi. E poi nel taglio alto. Il voto in Francia. L'effetto Macron spinge le borse. Milano vola a più 4,8%. Lasciamo i quotidiani di cronaca. Diciamo così. Generalisti nazionali. Per aprire invece quelli sportivi. E partiamo dalla gazzetta dello sport. Occhio Milan. Gigio ti scappa. Donna Rumma tiene in ansia i rossoneri. Raiola chiede soldi e rinforzi adeguati. Per ora non tratta. Fassone ritiene incedibile il portiere. Pronto un ingaggio da 3,2 milioni a salire. La fascia da capitano. Le sirene estere. I due. Manchester e Real. Sono forti e più ricche. 7,5 milioni a stagione. Le offerte per il portiere del Milan. Poi cura Inter. Clausura. La società usa le maniere forti. Squadra in ritiro dopo la sconfitta rocambolesca a Firenze. E poi la Roma si fa in 4 per la Champions. Giego sostituito insulta Spalletti. Batte 4 a 1 il Pescara che va in Serie B. La Juve ha meno 8 dai giallorossi. E poi invece il calcio estero. Il Barça risorto. Supermessi. Il problema adesso è il rinnovo del contratto. E poi oggi funerali. Per l'ultimo saluto a Scarponi. E c'è anche Frenchi. L'amico Pappagallo. Andiamo sul Corriere dello Sport. L'Inter vola da Simeone. Metti tu la cifra. I vertici di Suning pronti a fare pazzie per il Ciolo. Contratto di 4 anni e carta bianca per rifare la squadra. L'ingaggio lo deciderà l'argentino. Via vai continuo. Dal triplete a oggi sono cambiati 10 tecnici. In casa neroazzurra. La punizione. Pugno duro dei cinesi. Tutti in ritiro alla pinetina. Di spalla Roma Show torna a più 4 sul Napoli. Altra festa del gol. Doppietta di Salah. Battuto il record di Nà a 20 con 48 reti in questa giornata di campionato. Giego sostituitosi in furia. Spalletti l'ho fatto riposare. Domenica c'è il derby. Andiamo nel taglio basso. Non solo successi anche un progetto. Ecco la Juve del futuro nel segno dei giovani. Da Caddara a Betancourt. Tutti i nuovi gioielli della vecchia signora. E poi aumenta lo spezzatino. Rivoluzione in A per i diritti tv. Deservo più soldi al calcio. E poi i motori. MotoGP. Rossi avverte Vignales e Marquez. Valentino alla carica. Si punto al titolo. Capito la moto. E non niente da perdere. Valentino Rossi vuole chiudere in bellezza la carriera. Andiamo adesso su Tutto Sport. Juve Schick. Incontro con la Samp. Marotta vuole prendere l'attaccante subito e lasciarlo a Genova per una stagione. Il club d'Oriano chiede il prestito di Betancourt. E un aiuto per prendere Drussi Bomber del River. E poi Inter Shock. Durissimo comunicato del club. Il K.O. di Firenze è inaccettabile. Assolto Pioli. Ma la squadra va in ritiro fino al Napoli. Nel taglio alto il Torino. Belotti Show. L'attaccante del Toro da spettacolo in tv a Tiki Taka. Che belli quei bimbi Granata che mi hanno mandato foto e video con la cresta. I loro messaggi per me sono importanti. La clausola da 100 milioni non mi fa impressione. Oggi girano cifre folli. Cannonieri. Io non mollo per quanto riguarda questa speciale classifica. Centropagina. Roma sì. Geco no. 4-1 al Pescara. Il bomber sostituitosi in furia ufficiale. Monkey nuovo DS dei giallorossi. E per i motori. Vale che figo tornare leader. E ancora invece il volley. I blengini. Io l'Ube e l'Italia. Questo per quanto riguarda le prime pagine. La prima parte della rassegna stampa. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Per andare a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Poi torniamo con la seconda parte in cui approfondiremo le notizie dalla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani regionali. E tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. E dunque torniamo alle notizie dalla nostra regione. Ripartiamo dalle pagine di primo piano del quotidiano Il Centro. In chiesta Pescara Porto. Parla Ruffini. Ho fatto solo il portalettere. L'ex segretario del governatore racconta al centro l'incontro con Milia. Me lo chiese il Presidente. Io portai quella minuta al dirigente di Biase. Dunque queste in poche parole le dichiarazioni di Ruffini. E poi Ervese, l'ingegnere che ha rifiutato di firmare il documento, non ha condiviso l'iter su Pescara Porto e ha rifiutato di firmare il documento importante ma non vincolante inviato al Comune di Pescara. La replica del Presidente dell'Aggiunta regionale al Direttore del Centro Prestigio e Onore delle Istituzioni non sono in discussione. La polemica si è scatenata da un intervento che è trovato sullo giornale di ieri del Direttore Primo Di Nicola. E poi l'inchiesta è processo Maremonti da Alfonso Prescritto ma lui ricorre per essere assolto. 11 proscioglimenti per la strada Fantasma a Penne. Il Presidente non ci sta, vuole il proscioglimento nel merito e ha incaricato il suo legale di impugnare l'ordinanza che ha dichiarato i reati estinti. Il prossimo di Enza, il 30 maggio, il Dipattimento passerà al setaggio le condotte delle aziende. Sotto sequestro ci sono 4 milioni di euro. E poi i pettinari del Movimento 5 Stelle adesso riferisca in aula su quanto sta accadendo nell'inchiesta Pescara Porto. E a Cerbo di Rifondazione Comunista chiede le dimissioni del Governatore. Di Nanna invece di Amnistia, Giustizia e Libertà difende D'Alfonso esprimendogli piena solidarietà. Andiamo anche sul quotidiano Il Messaggero per andare a vedere la pagina Abruzzo. Sotto sisma, addio casette, gli sfollati avranno delle vere abitazioni. La Regione comprerà dai privati 550 immobili inutilizzati, saranno messi a disposizione dei terremotati del Terramano. Il Governo cambia strategia, niente alloggi provvisori, stanziati per l'Abruzzo 54 milioni. E poi le primarie del PD con il ministro Maglia a Pescara Renzi deve riprendere le sue riforme per la corsa alla poltrona di segretario del Partito Democratico. E poi nel taglio basso il 25 aprile europei già da allora quell'ideale è ancora un valore. Questo è l'intervento di Nicola Mattoscio. La liberazione come traguardo dell'aspirazione alla pace e all'unità del continente. Oggi ricordiamo le imprese della Brigata Maiella che fu mossa proprio da questi principi. Appunto Mattoscio è presidente della Fondazione Brigata Maiella. Andiamo sulla pagina di Pescara con una notizia che abbiamo visto in precedenza. Ruffini, ecco la carta, ci disse Milia. Si torna a parlare dell'inchiesta Pescara Porto. L'ex capo della segreteria di D'Alfonso ha svelato il contenuto della riunione nello studio del legale per sbloccare Pescara Porto. Dopo l'incontro del 3 marzo due contatti tra Dezio e Di Biase per mettere a punto, secondo le istruzioni, la lettera del genio civile. Poi per la Maremonti arriva la prescrizione duro acerbo. Luciano ha mentito, si deve dimettere. Il segretario di rifondazione accusa. Venga in aula, ci dice Pettinari dei 5 Stelle. La difesa di giustizia e libertà è una gogna mediatica. Queste le reazioni alla inchiesta. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere la pagina dedicata al 25 aprile in Abruzzo. Ettore Troilo, eroe della libertà, passione, onore e coerenza. Carlo, il figlio del comandante della Brigata Maiella, racconta la vita di suo padre fra famiglia e politica. Dopo la resistenza rifiutò tutti gli incarichi che gli furono offerti dal Parlamento all'ONU e morì in povertà. Il padre morale della nostra regione e del nostro popolo, un riferimento al quale tutti dovremmo ispirarci. Ricordava sempre il giorno in cui con la sua jeep saltò su una mina nelle marche e rimase per molti giorni fra la vita e la morte. Scelba lo rimosse da prefetto di Milano per la sua eccessiva autonomia nei confronti del governo e l'imminenza delle decisive elezioni politiche del 1948. Oggi Minnita e Lenini saranno al sacrario di Taranta Peligna proprio per celebrare il 25 aprile. Anche sul centro troviamo l'intervento di Nicola Mattoscio, Liberazione Costituzione e Nuova Europa. Il valore del 25 aprile risiede soprattutto nell'anelito di cambiamento di libertà di cui era espressione la resistenza. E ancora malvestuto, bisogna sventolare il tricolore e festeggiare tutti a Sulmona, l'ultimo ufficiale della Brigata Maiella. La memoria è importante e non va persa per i giovani. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro. Passiamo alla pagina Bruzzo. Primaria del PD ai cittadini più sicurezza ma soprattutto lavoro. Il ministro Marianna Madia Pescara a sostegno della mozione Renzi Martina ad Avezzano visita l'AMPO al consorzio acquedottistico marsicano. Nel taglio basso Parco Gran Sassolaga, il piano dopo 24 anni. L'assessore Di Matteo finora solo obblighe di vieti, ora condizioni più favorevoli per gli enti locali. Ancora avanti con il quotidiano Il Centro. Passiamo alla pagina di Pescara. Far West in centro, petizione con 200 firme contro vandali, furti e risse. Commercianti e residenti esasperati dopo il danneggiamento del bar Excelsior. Alla stazione Due Roghi in 20 giorni, quella bomba sociale è un passo dal centro. Varie etnie di disperati si contendono a colpi di dispetti un enorme spazio grezzo di circa 250 metri quadrati. Andiamo avanti. Il Ponte Nuovo intitolato a Flaiano, data di consensi anche dalle scuole. Il sì al nome dello scrittore pescarese, ma l'inaugurazione slitta ancora. La cerimonia forse a giugno. Prima il ponte dovrà passare il collaudo il 29 o il 28 di aprile. E poi la protesta. Via Tavo tra sporcizie e degrado. I residenti non possiamo neppure portare i nostri figli al parco. Ancora si complica il caso Villa Gresti. Una causa blocca la demolizione. Spunta un contenzioso di 14 anni fa tra i vecchi proprietari e l'impresa Trave, ora fermo in Cassazione, e l'avvocato Sabatini. La titolare non consentirà mai l'abbattimento di quell'immobile sulla riviera. Gli eventi del 25 aprile a Pescara. I rifugiati si sfidano a calcio in nome della liberazione quadrangolare a Villa De Reseis con le formazioni di CGL, Arci e Caritas. Scendono in campo gli immigrati con il sogno del pallone. Ecco le loro storie. Sempre dalle pagine di Pescara. Datemi una casa oppure dovrò andare in carcere. Appello al comune di un 52enne ai domiciliari che sta per ricevere lo sfratto. Lavora come giardiniere in un parco cittadino, ma senza un tetto. Finirà tutto. Poi prove di salvataggio con un siluro marino al porto di Pescara. E ancora la bozza dell'atto aziendale, i pasvi contro l'asle di Pescara. Gli infermieri sono stati penalizzati, così il sindacato dei lavoratori sanitari. E ancora un defibrillatore per la cantera, regalo degli infermieri volontari del CIVES per il progetto Sport nel Cuore. Ora passiamo alla pagina di Montesilvano, sempre restando al quotidiano il centro. Tassa sui rifiuti. Cosa cambia? Più rate per diluire la taria aumentano le esenzioni. Le scadenze per il pagamento diventano 5. La prima sarà il 31 di maggio. Le attività nate dallo scorso 1 gennaio per il 2017 non pagheranno. E queste le scadenze delle rate domestiche. 31 maggio, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 30 novembre. E poi la polemica. Orsini rilancia referendum sul nuovo piano sfiaggia. Fa discutere il documento approvato dall'Aggiunta Maragno dopo la richiesta presentata dalle associazioni di bagnatori che ora chiedono di modificarlo. Torniamo sul messaggero per andare a vedere le altre notizie da Pescara. Città sicure, Minniti, istruisce i sindaci. Oggi vertice in prefettura, città e visita super blindata del ministro dell'Interno che illustrerà ai primi cittadini compiti e responsabilità del nuovo decreto. E poi mercato breve, mugugni degli ambulanti. In via Pepe, chiusura anticipata alle 12.30 per consentire la partita del Pescara. Meglio che saltare tutto il lunedì, dicono alcuni, gli scontenti, ingiusto penalizzare 300 famiglie. Poi respinto ricorso contro l'appalto ACA via al cantiere anti-inquinamento. La sentenza del TAR sblocca i lavori, corsa contro il tempo in vista dell'estate, ma Toro dice effetti a partire dal 2018. Torniamo dunque sul quotidiano Il Centro per proseguire la lettura delle pagine dell'area metropolitana. Il Comune vende anche la ludoteca per ripianare i debiti. Città Sant'Angelo, la minoranza insorge contro il piano che giovedì andrà in consiglio. Florindi dice un atto inevitabile. Nel taglio basso a Spoltore non dimenticheremo Scarponi, cordoglio e ricordi del campione che nel 1997 correva sulle salite spoltoresi. Sempre dall'area metropolitana, aiuti alle ragazze madri con il teatro dialettale. Francavilla, pubblico entusiasta e generoso per lo spettacolo di beneficenza, evento voluto dal Rotary Club per sostenere opera Santa Maria di Nazareth. E poi cade l'ultima barriera per l'ospedale. Popoli, avviati i lavori di RFI sulla strada della Santissima Trinità, via il vecchio passaggio a livello e si farà un sottopasso. L'atto aziendale ASL penalizza Penne. Campitelli di Forza Italia ribatte a Napoletano del PD. Siamo sempre stati contrari al piano di riordino. Passiamo alla pagina di Chieti. Sanità e anticorruzione. Cantone dà lo stop al nuovo ospedale. L'indagine innescata dal consigliere regionale Cinque Stelle Marcozzi, che spiega che è un'operazione anti-economica. E poi D'Alfonso Malana, che è stata raggirata. Il governatore contro i grillini hanno fatto credere che la gara si era già svolta. Ma non è così. E allora andiamo a vedere proprio questi servizi relativi alla conferenza stampa di Cinque Stelle e a quella successiva del Presidente della Regione D'Alfonso. Consigliera Marcozzi, parliamo del project financing. Perché avevate chiesto l'intervento dell'ANAC e questo intervento è arrivato? Perché è stata aperta una procedura di controllo sull'operato della Regione? Sì, ANAC ha aperto una procedura di vigilanza nei confronti della ASL di Chieti e nei confronti della Regione in merito e grazie alle nostre segnalazioni. Cioè ANAC ci ha dato ragione. Quando dicevamo che ricorrere al project financing per la realizzazione di ospedali poteva essere un pericolo per le casse regionali e solo un vantaggio per il privato, ANAC riconosce fondata questa eccezione e apre un procedimento di vigilanza. Tra l'altro ANAC ci dà ragione anche su un altro aspetto, cioè sul fatto che noi abbiamo sempre chiesto al Presidente D'Alfonso e all'assessore Paolucci di valutare l'opportunità che la ASL costruisse il nuovo ospedale autonomamente, con un appalto autonomo, dunque facendo ricorso ai fondi per l'edilizia sanitaria nazionali ed eventualmente se ce ne fosse stata la necessità ad un prestito presso Cassa Depositi e Prestiti, cosa che non è mai stata ascoltata dal Presidente D'Alfonso. Oggi ANAC ci dice, con la missiva che ci è arrivata venerdì, che avevamo ragione e che questi aspetti debbono essere valutati con un maggiore approfondimento. Voi nel merito restate contrari al project financing? Assolutamente sì, io ci tengo a ribadirlo, il nostro non è mai stato un no ad un nuovo ospedale o una ristrutturazione dell'esistente, il nostro è un no alla procedura di finanza che grava eccessivamente sui bilanci delle ASL della Regione, quindi sui soldi dei cittadini abruzzesi e avvantaggia solo il privato. Presidente D'Alfonso, è partita da poco una procedura di vigilanza dell'ANAC per quanto riguarda il project financing, questa notizia è stata resa nota questa mattina dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Lei ha parlato di ANAC raggirata da qualcuno, da chi e perché? Io ritengo che la Marcozzi sia nella più totale innocenza, forse anche spensieratezza e la ringrazio di questa attività ulteriormente documentale, ho la percezione che l'ingegnere Filippo Romano con questa tripice cartacea che ha inviato alla Regione Abruzzo sia stato messo nella condizione diciamo difettosa dal punto di vista documentale, poiché primo abbiamo già dito noi l'ANAC, mettendo a conoscenza dell'ANAC circa l'intera procedura. Secondo, in ordine alla premura effettivamente resa da ANAC per quanto riguarda la consistenza del canone di concessione, che è l'elemento che è oggetto di grande lettura diligente da parte di ANAC in questo caso e in altri casi, noi siamo davanti ad una non proceduralizzazione perché deve essere ancora qualificato il proponente come promotore, deve essere ancora tenuta la gara come notorio per tabulas e il fatto che l'ingegner Romano arrivi a richiedere gli atti di gara, i verbali di gara, mi fa pensare che qualcuno lo abbia raggirato, tant'è che io il 26 sarò da lui per ricostituire l'integrità della sua posizione lavorativa, facendo in modo che il flusso documentale sia corretto e magari anche l'accompagnamento orale che a volte segue rispetto all'invio documentale. Da quello che ho letto io, da questi tre fogli di carta e di ingegner Romano, sembra quasi che si sia già tenuta tutta la procedura, qualificato il promotore, tenuta la gara d'appalto, stabilita la quota come canone di concessione. Tutto questo non c'è stato ancora, c'è stata una delibera di giunta nel 2016 che ha esattamente dettagliato cosa fare per il pieno rispetto del pubblico interesse. Qui vi comprendendo anche il massimo del contenimento del canone economico, che se dovesse servire deve essere minimale per consentire la copertura economico-finanziare di questa notevole massa di lavoro che noi riteniamo essere necessari lì all'importante presidio ospedaliero della città di Chieti. Noi procediamo speditamente, ci si danno 30 giorni per riscontrare i documenti, noi impieghiamo 30 minuti a partire da questa conferenza stampa. Andiamo avanti sulla pagina dell'Aquila, fare centro il bando della discordia, Lolli lo presenta e si difende, è vero pubblicazione arrivata a ridosso del voto ma avrei dovuto bloccare tutto per questo, tre linee di finanziamento per le attività commerciali, dotazioni di 12 milioni di euro per gli anni 2016-2017. Poi sempre per quanto riguarda il voto, la Meloni in città per sostenere la candidatura di Biondi, un sindaco simbolo della città simbolo, il leader di Fratelli d'Italia, abbiamo bisogno di gente come lui, il candidato, noi partiti prima è meglio. Andiamo avanti, 300 pratiche bloccate al genio civile, richiamo ai tecnici per metà, si tratta di progetti approvati per edifici danneggiati, il dirigente giovani, difficile dire se ciò abbia provocato dei ritardi. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona, Pietracquaria, centro bloccato per la fiera in migliaia tra le bancarelle, l'assessore Fabiana Marianella è ottimista e annuncia il taglio della quota di partecipazione e le forze dell'ordine schierate per garantire la massima sicurezza ad Avezzano, la zona storica così torna a rivivere. Passiamo adesso alle notizie dal Terramano, apriamo la città, il quotidiano della provincia di Terramo, la crisi in comune, non se ne uscirà con una giunta tecnica. L'unica strada, tendiamo che si ricarichi la pagina, allora andiamo a recuperare la città per andare ad osservare questa notizia che riguarda la crisi di governo al comune di Terramo, dimissioni del sindaco che sono arrivate a seguito della presa d'atto che non c'erano più le condizioni alla maggioranza per andare avanti e dunque dicevamo non se ne uscirà con una giunta tecnica. L'unica strada per Brucchi passa dal recupero di una maggioranza stabile in consiglio comunale. Riunioni serrate, ieri si sono riuniti i consiglieri di Futuro In e della Civica che fanno riferimento a Polo Gatti e Mauro di Dalmazio e dunque si cerca una convergenza. E poi Picchi e il padre lo manda all'ospedale in manette 25enne Terramano fermato dai poliziotti all'interno di un appartamento dei suoi genitori. Ancora la regione cerca quasi 550 appartamenti, niente casette per sistemare i terremotati, fondi previsti per i MAP, meglio investirli in dotazioni vere. Sono 50 milioni destinati a questa operazione. Andiamo in provincia, Castellalto, Isola Felice per articolo 1 e Partito Democratico, presentato il gruppo di sinistra rappresentato da tre consiglieri. Il governo con Di Marco non è in discussione. Andiamo ancora avanti, sempre con le pagine della provincia. Domenico Piccioni ritira la candidatura, Tortoreto, il suo nome non è riuscito ad unire il centrodestra, tornano in pista Monti e Marconi. Ancora andiamo sulle altre pagine per vedere quella di Roseto Pineto A3 e Silvi. Si lavora al distretto sanitario della costa, alla maggioranza di Girolamo va bene l'ospedale unico provinciale se la ASL garantisce i servizi territoriali. Ora apriamo lo spazio dedicato allo sport e dunque andiamo a recuperare l'Abruzzo Sport del centro per andare a vedere la sconfitta del Pescara ieri sera all'Atletico Cornacchia contro la Roma. 4-1 il finale, la fine del sogno, altra figuraccia. La Roma rispedisce il Pescara in B, tiro al bersaglio dei giallorossi sui biancazzurri che crollano e retrocedono con cinque turni di anticipo. Ultra biancazzurri intanto rubano gli zaini ad alcuni romanisti. Queste le notizie di cronaca. Invece per quanto riguarda la partita noi andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti. La Roma passa come da pronostico agevolmente allo stadio Adriatico per 4-1 riportando a più 4 il vantaggio in classifica sul Napoli rimanendo a meno 8 dalla vetta. Tutto facile per i giallorossi già proiettati al derby di domenica prossima con la Lazio. L'ennesimo KO stagionale sancisce invece la retrocessione matematica del Pescara in Serie B dopo una sola sciagurata stagione nella massima serie. Si ripartirà il prossimo anno dal torneo cadetto ancora con Zeman ma con una squadra probabilmente rivoluzionata. La Roma si presenta in campo con il solito 4-2-3-1 in difesa Emerson e preferito Juan Jesus. Il Pescara risponde con il 4-3-3 di stampo Zemaniano e con coda centrale al posto dell'infortunato Campagnaro. Al terzo pronti via e gol della Roma annullato a Salah per fuorigioco che lascia parecchi dubbi. Al quinto arriva la risposta del Pescara affidata a Bebec che crea un brivido nella difesa capitolina. Gara a viso aperto soprattutto per merito della Roma che al sesto è vicina al vantaggio con El Sharawi che trova la respinta di Vincenzo Fiorillo. L'assedio romanista è costante con Geko che al diciottesimo ci riprova trovando ancora un Fiorillo reattivo. Passata la Buriana i ragazzi di Zeman riescono a spostare il baricentro in avanti di qualche metro con la Roma che per qualche minuto tira il fiato. Si arriva così negli ultimi dieci minuti della prima parte di gara quando la Roma trova però negli ultimi secondi del primo tempo le due reti che decideranno di fatto la partita. Al quarantaquattresimo è Strotman sul servizio di El Sharawi a trovare l'uno a zero mentre qualche secondo dopo ci pensa Nainggolan raddoppiare dopo un'azione in contropiede avviata da Salah e rifinita da Geko per il pescare notte fonda anche perché al terzo minuto della ripresa Salah con un tiro ad effetto da 18 metri va a segnare il gol del 3 a 0 sotto la curva dei tifosi romanisti. La differenza di valore in campo è a dir poco evidente visto che Geko arriva ad un passo dal 4 a 0 all'undicesimo la squadra di Spalletti fa accademia al cospetto di un delfino affranto. Al quattordicesimo lampo però del Pescara prima con Biraghi e poi con Bebec prima del poker firmato sempre al quattordicesimo ancora da Salah e ancora in contropiede. In una gara che non ha poi più nulla da dire spicca al venticinquesimo la plateale protesta di Geko verso Spalletti al momento della sostituzione con Grenier è l'unica vera emozione del secondo tempo anche perché al trentunesimo si vede Caprari con una bella conclusione a cui dice no in angolo Scerseni. Il Pescara trova poi il gol del 4 a 1 al trentottesimo con Ben Ali prima del palo colpito su punizione da Biraghi al quarantaduesimo. Troppo poco però per mettere pressione a Roma con la testa al derby con la Lazio di domenica prossima per il Pescara. La testa invece al prossimo campionato di Serie B. Duro Pierpaolo Marchetti sul messaggero. L'ultima umiliazione il titolo che apre l'Abruzzo Sport del messaggero. I biancazzurri travolti in casa anche dalla Roma retrocedono in B con 5 giornate di anticipo. Il contropiede devasta la difesa degli abruzzesi che con 74 gol subiti è la seconda peggiore d'Europa. Koulibaly dice battuti da un avversario troppo forte. Intanto dall'Uruguay sono in arrivo tre giovani. Neira prelevato dal Wanderers, Giselda e Elisalde. Poi Zeman, Sereno, una squadra da cambiare radicalmente per la prossima stagione in Serie B. Restiamo sempre alle parole di Zeman ma torniamo sul quotidiano. Il centro ci sono le pagelle dei biancazzurri. Fiorillo è il migliore perché è riuscito a limitare il passivo. Si salva assieme a Benali. Male la linea difensiva. Non poteva essere diversamente con quattro gol presi. Poi in Serie A il posticipo dell'Adriatico. Zeman guarda avanti. Cambieremo tanto. Il tecnico fa l'analisi degli ultimi mesi e traccia le prospettive per la prossima stagione. Non vogliamo chiudere all'ultimo posto. Ci è mancato un bomber lì davanti. Allora ascoltiamolo. Zenec Zeman. La mentalità mia penso che si è vista nel senso che noi abbiamo oggi costruito tante occasioni da gol che non abbiamo fatto in sei partite insieme. La fase offensiva magari ci è venuta perché attaccanti finalmente si sono mossi verso l'area di rigore. Su fase difensiva c'è da dire tanto perché prendere tre gol in contropiede è brutta cosa. Sapendo che giochiamo contro la Roma. Di solito la Roma trova le squadre chiuse e quindi c'è più difficoltà. Ma noi abbiamo provato, tentato di giocarsela e la Roma è ancora troppo più forte rispetto a noi. Questa è una retrocessione. Quota Zeman possiamo dire al 10% o di meno secondo lei? non faccio. Io sono venuto sperando che riesco a impostare un certo tipo di gioco e una certa mentalità. Per lungo tempo non mi è riuscito poi a questa squadra. Manca quello che può fare è il gol. Mentre l'anno scorso c'era la Padula che ci ha risolto con 28 gol in tante situazioni noi oggi non abbiamo un gelardino sano. Il dopogara con il presidente Sebastiani che dice siamo pronti a ripartire. Mi dispiace ma la retrocessione era quasi scontata dopo tutto quello che ci è accaduto dice il numero uno delle delfine. Poi Coulibaly che promette di restare a Pescara. Non mi muovo, resto qui. Sempre sulle Pescara il racconto della retrocessione così fa male è stata una comparsata organico sopravvalutato, errori nel carciomercato e l'illusione di poter lottare con i protagonisti della promozione che non si sono rivelati pronti per la Serie A. Andiamo adesso in Lega Pro, lasciamo la Serie A. Biancorossi in bilico, Teramo corsa salvezza con l'incognita del gol. L'ultima rete di Barbuti risale alla trasferta di Ancona il 5 aprile. Poi ci sono il caso Fratangere, il nuovo stop per infortunio di Spighi. Ieri si è tenuto a Teramo anche il premio Rodomonti con un inno a Rumignani. L'ex tecnico biancorosso assente, presenti la moglie e il figlio all'università. Andiamo sempre a vedere il Teramo sul messaggero. Questo Teramo merita la salvezza, il patron Campitelli durante il premio Rumignani. Nessun caso Fratangelo, nelle ultime due partite servono tutti a soltanto 18 anni e crediamo in lui. Andiamo a vedere anche sul Teramo cosa scrive la città. Campitelli striglia Ugolotti su Fratangelo. Il patron biancorosso, il mister poteva anche evitare quelle esternazioni. Il ragazzo non è in mala fede. Il Teramo chi vuole comprarlo mi chiami e faccia un'offerta. Ascoltiamolo, Campitelli. Presidente, quanto rammarico c'è per una vittoria che è scivolata via anche per un errore arbitrale che è sembrato davvero evidente? A prescindere domenica, che credo la partita ai punti l'avremmo potuta vincere noi, ma per quello che abbiamo sbuttato in passato perché oggi con tre punti in più noi diciamo che saremmo quasi salvi se non salvi. Quindi purtroppo è un anno nato male e speriamo che finisca bene perché credo che sia come società che come squadra, come pubblico sicuramente degli errori sono stati fatti altrimenti non saremmo dove oggi ci troviamo. Credo che meritiamo anche di restare in questa categoria e poi riprogrammarci completamente per poter ristrutturarci e fare un programma ripartendo un attimino dal basso ma con un attimino una programmazione che negli ultimi due anni per la voglia di tornare a rivincere subito sicuramente degli errori sono stati fatti spendendo anche tanto. Comunque vadano le cose, Campitelli resterà al suo posto? Diciamo che il Tenamo è di mia proprietà quindi Campitelli resterà al suo posto. Campitelli in questo momento credo che sia anche un bene per il Teramo e per tutti quanti i tifosi. Se poi si vuole cambiare Campitelli basta poco, basta chiamare la proprietà e basta fare un'offerta e lì trovare un giusto accordo tra le parti. Il tempo a nostra disposizione è terminato, mattino 6 finisce qui, il prossimo appuntamento è domani alle ore 7, la nostra informazione invece torna con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23, vi ricordo anche la diretta serale alle ore 21 con Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella per approfondire i temi dedicati alla squadra biancorossa. È davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.